questo è meglio qui Giaccio quando arrivi stasera Luciano ti sente sicura non sale e lo scende nessuno basta che si grippa tutto non me la fai il primo non me lo fa un esempio da una casa dentro sportelli ora si montano lo sportello ho messo un punto ho messo un punto grazie compara sta un po' di minuto sembra un'azino ho messo un po' di minuto finisci quest'occhio mi diventano sopravvivene male grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti